Metti via quel binocolo, Fry. Il muro dello strip club non crollerà due volte nella stessa giornata. Lo so e questo ormai l'ho accettato. Adesso sono interessato alla pizzeria che hanno aperto qui di fronte. Mi fa desiderare i vecchi tempi in cui consegnavo le pizze. Ecco le vostre pizze, dicevo, non abbiamo ordinato pizze, rispondevano e via verso un'altra avventura. Che storia patetica. Passami il binocolo. Avete provato il resto, adesso siamo aperti. Mi sa che il proprietario viene da Casoria. Casoriani? Nel nostro isolato fiamme e fuoco. Perché non se ne stanno a casa loro? Professore, la prego. La società non riuscirà mai a fare progressi se non impareremo a fingere di volerci bene. E ora andiamo a dare il benvenuto a quegli orrendi forestieri. No! Sicuro che queste sedie so giuste? Sulla guida ci sta scritto che le gambe degli umani si piegano. Sta tranquilla, mamma. Se qualcuno dovesse lamentarsi, gli piego le gambe gratis. Uuuuh, arrivano i clienti. Benvenuti alla pizzeria della terra. Prego, si accomodi. Gli piego le ginocchia. Oh, comodissima. Ok, signore, che tipo di pizza vi posso preparare? Limo, asbesto, abbiamo del guano fresco di giornata. Lo avete nel cibo? Ecco, provate questa pizza alla cupola. Contiene quattro ingredienti diversi. Non vorrei offenderla, ma questa cosa sa di vomito. Grazie. No, in realtà volevo offenderla un pochino, signora. È terribile. Ehi, che è successo? Qualcosa che ha detto Lela? Siamo venuti sulla terra per una nuova vita. A crescere figli viziati della terra. A stendere mutande sul filo del bucato della terra. A vivere il sogno terricolo. No, non piangete, simpatici stranieri. Io ho lavorato in una pizzeria e quando mi passeranno le allucinazioni e il vomito vi insegnerò a vendere le pizze stile terrestre. Oh, grazie, incantevole bipede. Voi ci avete salvato, signori. Se non realizzeremo il nostro sogno della pizza terrestre, moriremo come i toporagni che abbiamo triturato per fare il vino. Grazie.